Dicevo prima, Peter, senza dirgli cosa, che i ministri e i governi fanno cose anche senza dirle. È passato il tempo per cui penso si possa dire, ma la missione di Zuppi, di pace di Zuppi, a cui tutti abbiamo dato speranza, chi pensate che abbia aiutato Zuppi a realizzarla? E se dice così lei, forse. Chi pensate che abbia dato il supporto per il trasporto, la sicurezza e abbia fatto pressioni, ad esempio, su Zelensky perché lo ricevesse? Il guerrafondaio, ministro della difesa italiano. Quindi non è filo russo? No, perché la politica è questo. Perché mentre persegui il giusto aiuto a una nazione attaccata, persegui con la stessa determinazione, con lo stesso impegno, la strada per costruire le condizioni di pace. Questa è la politica. Questo è come, secondo me, bisogna interpretare questo difficilissimo momento. Alcuni, molto spesso io vengo, anche voi mi trattate, no? Ministro della guerra. Esatto, ministro della guerra. Il ministro della difesa italiano è arrivato a fare il ministro quando la guerra era scoppiata. Quando la guerra era in corso, quando l'Italia aveva già mandato cinque pacchetti di aiuto, quando le posizioni dell'Italia hanno state prese in Europa, nella NATO e si è trovato e sta continuando a gestire questa cosa cercando di farla nell'interesse per il ripristino del diritto internazionale, nell'interesse del nostro paese e per far sì che si arrivi a una soluzione più in fretta possibile. Grazie a tutti.